Ciao a tutti, io sono Roxy e questo è un altro what I eat in a day, che cosa mangio in un giorno e questa edizione è un'edizione crudivegana e anche senza glutine perché ultimamente a Los Angeles fa veramente caldissimo e io non ce la faccio a mangiare roba cotta quindi iniziamo con la colazione, ho fatto una colazione semplicissima, un mix di banane, fragole, lamponi, uva e cocco ed era al bacio, poi per pranzo ho spiralizzato le zucchine per fare queste fettuccine di zucchine e vi lascio il link dello spiralizzatore nella descrizione e poi ho seguito la ricetta di Roboy per fare questo curry al cocco crudivegano, veramente buonissimo dopodiché per merenda ho fatto un cappuccino con il latte di mandorle e ho assaggiato questi mochi gelato perché stavo filmando il video del giovedì e questo mochi al caffè era veramente spettacolare dopodiché per cena mi era avanzato un po' di curry però non mi andava di rifare le fettuccine e quindi ho fatto il riso di cavolfiore che è facilissimo da fare, dovete semplicemente tritare il cavolfiore oppure lo mettete nel food processor e viene fuori così e l'ho mangiato appunto con il curry e ho aggiunto anche un pochino di tofu che mi era avanzato e che avevano in frigo quindi non è proprio tutto tutto crudo però quasi tutto è tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato magari delle idee per quei giorni in cui non mi va di cucinare o volete mangiare più cose fredde e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao